un saluto a tutti cari amici di youtube adesso voglio parlare di uno dei tanti misteri della psiche umana ancora oggi molte persone credono al malocchio da sempre lo ha creduto sarebbe quando una persona gli va tutto male quando il mondo gli crolla addosso allora una persona può essere anche il più intelligente della terra crede che gli è stato fatto il malocchio da qualcuno invidioso spesso il il malocchio si credeva veniva fatto se una persona con gli occhi strabici ti guardava oppure se se una persona ti guardava fisso a parte che il guardare fisso è una cosa che che uno non si accorge che lo sta facendo magari ti sta semplicemente ascoltando o magari ti apprezza e ti osserva però poi c'è gente che dice che esiste il malocchio cioè se una persona ti fa un complimento dopo gli succedono delle cose negative quello è il malocchio poi c'è gente che per il malocchio fa delle cose che ma sono chiamate anche fatture a volte venne chiamato anche lo sfascino proprio nel nelle c nel salento viene chiamato lo sfascino per allontanare il malocchio si ha bisogno di porta fortuna gli amuleti cioè corne cornicelli il gobetto il quadrifoglio il ferro di cavallo ho già parlato dei amuleti in video precedenti andatele a vedere chi vuole molti si affidano a questi oggetti per scacciare la malasorte quando una persona vede che agli altri li va tutto bene e a se stesso nonostante ha delle qualità lui non ha fortuna si crede di essere sfortunato si crede che solo a lui capitano le sfortune che agli altri va sempre tutto bene e quindi dice che gli è stato fatto il malocchio c'è anche ci sono anche persone che per vedere se gli è stato fatto il malocchio prendono un piattino concavo lo riempiono d'acqua fino all'orlo e ci lasciano cadere alcune gocce d'olio se l'olio si squaccia si dilata significa che qualcuno le ha fatto il malocchio altrimenti no scientificamente si dice che l'olio è più leggero dell'acqua quindi galleggia questo dal punto di vista fisico e chimico poi nella bibbia nell'antico testamento ho letto che se tutto ti va bene è per grazia divina se tutto ti va male è per una punizione divina questo è una cosa che soprattutto nel medioevo fino agli anni 50 la gente ci credeva e adesso invece ci sono ancora persone che vanno contro a dio e ho letto parecchi commenti di persone che bestemmiano dio la madonna e questo non è giusto che bestemmia lo fa perché si pensa che a lui va tutto male quando una persona io io non ho mai bestemmiato in vita mia grazie a dio però vedo persone che le fanno le scrivono anche in alcuni gruppi di whatsapp vedo gente stupida che che bestemmia che possono fesse quelle persone che bestemmiano soltanto per ridere in una parte dell'antico testamento c'è scritto pure finché ti va tutto bene se guarisci presto se se non prendi subito le malattie se diventi ricco facilmente se hai successo è tutto grazie a dio mentre se tutto ti va male c'è c'è un passo della bibbia che dice se tutto ti va male perché così vuole dio ma cercate di non credere a questa cosa perché io so che dio è pieno di amore infinitamente buono di essere amato sopra ogni cosa sto guardando un aereo che lascia una scia chimica non so se si vede beh sul malocchio ho detto tutto io personalmente non credo nei malocchi anche se molta gente mi sta facendo notare che e dicono che gli è stato fatto il malocchio perché si vedono che perdono gli amici si vedono che non gli vanno bene le cose che non riescono ad avere un lavoro allora dice che è colpa di qualcuno che gli ha fatto il malocchio ho visto poi nel programma mistero una puntata di cui c'era una signora del salento una signora anziana che al giornalista gli ha fatto vedere come si guarisce dal malocchio e le aveva solo strofinato l'avambraccio e allora poi lui disse questa signora crede di poter guarire dal malocchio però nessuno può guarire da da questo gli ha fatto notare che c'era una sorta di quartiere povero e messo male un'altra cosa non so se era le iene fecero vedere che un inviato speciale delle iene andò in amazzonia dal popolo amazzone e visitò un popolo che credeva ancora ai malocchi e c'era uno sciamano che gli ha mostrato come si guarisce dal malocchio e poi lui disse quello sciamano mi ha guarito dal malocchio ma poi chi è che li guarisce da questo e ha fatto notare che c'era della spazzatura su quella zona la sulla zona dove c'era un fiume dove c'erano gli alberi che fecero vedere che che questo popolo crede al malocchio per religione soprattutto gli sciamani e il popolo stesso il fatto del malocchio veniva creduto da sempre dall'antichità l'uomo essendo un essere senziente un animale senziente si è posto delle domande come mai esiste l'odio come mai esiste il bene come mai esiste il male e allora si è posto delle domande si è dato delle risposte si credeva che esiste un dio buono che permette il bene e un dio cattivo un demiurgo che permette il male questa cosa è anche si da sempre esistito ora invece parliamo di quello che la scuola la scuola dalle zone dai primi anni di scuola dalla prima elementare alcuni vengono premiati alcuni vengono distrutti molta gente viene distrutta già dal primo giorno di scuola per delle cose banalissime tipo se uno non è attento alla lezione o se uno è iperattivo per altri problemi c'è chi viene discriminato già nel periodo scolastico che poi sono persone normalissime ma che per colpa di come sono stati trattati a scuola vengono sempre considerati degli emarginati e a loro nessuno gli dà un lavoro nessuno gli dà un modo per poter guadagnare e questo non è affatto giusto la legge dovrebbe stabilire il fatto di non discriminare più nessuno la scuola non dovrebbe discriminare ha fatto bene un cugino di mio padre a scrivere il libro per una scuola diversa che diceva che la scuola è come un ospedale al contrario che respinge i malati e cura i sani cura quelle persone che imparano in fretta e se uno non è capace di imparare allora viene discriminato e viene allontanato e poi avrà molte difficoltà per il dopo la scuola c'era anche una canzone di un telefilm pugliese una sitcom pugliese totiettata che c'era una canzone che diceva cosa sarà la nostra vita dopo la scuola che fa notare delle persone che a scuola vanno male e si chiedono come sarà la loro vita dopo la scuola infatti quelli che vanno male a scuola difficilmente poi trovano un lavoro difficilmente formano una famiglia ma a volte è anche il contrario ci sono pure persone che 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 a scuola vanno male appena finiscono la scuola diventano subito delle persone corrette non dico corrette cioè che subito prendono lavoro trovano famiglia e tutto dipende sempre dalla fortuna io credo alla fortuna e alla sfortuna non al mal occhio e spero che il destino possa essere cambiato bene spero di aver detto tutto ma proprio tutto ora io vi saluto sono a 12 minuti e 34 bene amici un abbraccio dal gran mitico grazie a tutti